Ciao a tutti siamo qui al Cubrix alla non edizione è nata dalla passione di un gruppo di amici e dal 2012 fino adesso il tutto è partito con una cosa molto piccola fino arrivare a quello che trovate intorno oggi è un raduno di auto americane tutto quello che riguarda i motori americani quindi anche comprese Harley Davidson moto e tutto quello a due ruote più la pazzia di questi ragazzi che contraddistingue questo evento è l'well barros che sono non niente poco di meno che delle cariole customizzate molto belle tra l'altro anche a livello di hot road dove si buttano a kamikaze dalla discesa che c'è qui alle mie spalle e niente molto spettacolare ed attira anche molto il pubblico ci sono gli street food c'è il sacro e il profano perché siamo ai piedi del santuario bellissimo di Vicoforte dove ha la cupola ellitica più grande di europa e qui mentre invece c'è lo spaziale mondo americano Grazie a tutti!